Una vittoria importante contro il Molasana, importante anche nel secondo tempo dopo l'1-1 nel primo essere riusciti ad andare subito in vantaggio? Il risultato non è mai stato in discussione, anche perché abbiamo concesso la palla del gol è un'altra parata importante di Bartoletti per un errore nostro. Poi abbiamo giocato contro una squadra che sapevamo motivata, organizzata, che ci avrebbe aspettato e non era semplicissimo. Siamo riusciti a sboccare, la siamo preso, poi secondo tempo anche con rigore sbagliato direi che abbiamo legittimato il risultato. Sono contentissimo, oggi veramente sono contento di tutti, ma credo che i nostri tre ragazzotti là davanti stanno veramente, come dico loro, sono la nostra prima pressione e giocare contro loro tre gli avversari fanno un po' fatica. Bene e poi ne beneficia tutta la squadra. Tre ragazzi giovani, lo ricordiamo tutti sotto i 20-20 anni, anche i cambi sono molto giovani, sono entrati bene anche qui alla panchina? Sì, noi siamo l'Atletic, siamo una squadra di settore ed è giusto che la rosa sia infarcita di giovani, ancora meglio come succede da noi nella nostra cantera, come si dice. Poi i nostri vecchietti ci mettono dell'oro. Io credo che i 21 punti che abbiamo raggiunto oggi siano tutti meritati e quindi ringrazio staff, ragazzi per la disponibilità e per quello che stanno facendo. Grazie. Grazie. Grazie